Cosa hai fatto? L'hai potenziata! Voglio essere onesto con voi, siamo... siamo morti, siamo tanto, aiutatemi a dire tanto morti. Ho 72 maledettissimi denti da parte e non so cosa farmene. Cosa potrebbe mai andare storto quando hai un procione, un lupetto feroce e il coyote fin dall'inizio. E se il telone fosse sculato due volte? Il telone è stato sculato due volte, non ci credo mai! Se trovassimo una capra nera sarebbe il to... Minchia gioco, ti adoro! Sono troppo tentato, sono troppo tentato, lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio! O non lo faccio più! Salve a tutti, io sono TheLongGamer e bentornati su Inscription 2024 Edition. Cases Mod, ovviamente, con una singola candelina, dannazione, sto veramente rischiando la mia vita. E soprattutto con il deck più sfigato della vita, che lo scorso episodio siamo riusciti veramente a salvare grazie al potere dell'alveare e delle sue stesse api. Per fortuna, perché se no sta run, ragazzi, ve lo garantisco, saremmo morti fra atroci sofferenze. Allora, ci sono 11 minuti di video che voi dovete ancora vedere. Sì, ho ancora qua i miei dentini, il cacciatore... Boh, chissà dove Cocchio è finito, sono riuscito a fare un po' di magie. Il deck è salvo dal mio punto di vista, ma potrebbe accadere ancora di tutto. Io sono a un passo dalla boss battle finale, se non ho contato male. No, mappa numero 3, siamo giusti giusti. E niente, gente. Sto qua ad aspettarvi, però datevi una mossa, eh. 11 minuti, non aspetto un secondo in più. La bellezza della neve cadente non è riuscita a distrarti dal gelo nelle tue ossa. Il tuo corpo ha preso tremare nell'inutile tentativo di conservare calore. Hai finalmente raggiunto il confine innevato. Yey! Potremmo andare al falo da questa parte. C'è un altro falo anche qui. Non è malvagia, è che odio quando le strade sono così tanto separate per dover di cronaca. È un deck che si sta molto rivalutando. Molto? Aiutatemi dire molto rivalutando dal suo punto di vista. Quindi voglio dargli qualche altra possibilità extra. Allora, proviamo a superare la prossima sfida. Che col culo del telone ribadisco quando mai nella vita. Buon uomo. Allora, tre sigilli, sei di salute o cinque ossa. Quello delle ossa non lo supererò mai in nessun universo parallelo. Allora, io andrei ancora una volta di cinque di salute. Perché, ok, ci sono quattro carte con uno di vita. Ma ci vuol sfiga. No, scusate, sei di salute. Portate pazienza. Abbiamo tre, sei... Uno ci doveva spuntare perché è quando mani alla vita. Successo! Lescino, te lo chiedo. In ginocchio. Peccato che il sigillo dei bocconcini ce l'ha un accocchio di carta che ha solo quattro di vita. Il lupacchiotto che ti dà le formiche che tecnicamente sono degli insetti che diventano immortali. Oh, il labirinto di tane che ti dà i conigli che però ti danno anche gli oggetti. Oh, wow, aspetta, 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 aspetta. E sono anche... Vabbè, mangia cadaveri completamente inutile allo stato attuale. E onestamente i conigli ci servono. Cioè, abbiamo già le api, figlioli. Noi abbiamo vinto a prescindere. Carte buone ma non indispensabili. E tecnicamente il sigillo dell'amante dei ninnoli l'abbiamo già con la formica operaia. Quindi della serie abbiamo già dato. Questo non mi piace solo per il quattro di vita e le nostre carte sono tutte belle immortali. Quindi puoi anche ucciderle quante volte ti pare e piace. Andrei di... Vabbè, lupacchiotto. Dai, comunque è una carta che si spawna facilmente. Questa è la cosa più... più importante. Falò, scelgo te! Oh, e ci permette di aumentare la potenza d'attacco. Sapete molto bene cosa andrà a fare sicuramente il telone. Mi piacerebbe aumentare amalgama ma la mantide ti conviene a prescindere per l'attacco doppio. No, no, questi io neanche li tocco. Li potessi sacrificare e sarei un aumento più felice. Ciao, mantide! Come va? Tutto bene? Una bella bustata vale più di mille parole. Ok, perfetto. Signore, io avrei tipo 42 dentini da dar via. Appena troviamo un cacciatore non è che mi farebbe schifo se no, quando cocchi lo tengo ste carte faighe. Ok, so, però viviamo alla prossima battaglia. Le shino, le shino! Vediamo un po'. Uh, amalgama, Shao Caro. Ok, l'alveare, perfetto. E un martin pescatore che passava di là. Allora, abbiamo los cerbiatos quindi per adesso andiamo di easy easy mettiamo... Oddio, poi i cerbiati si spostano a rompipalle. Mettimi un alveare lì e per adesso vediamo di pazientare o maronne. Ok, pazientiamo un po' di meno allo stato attuale perché, oh mio Dio stanno andando in qualunque direzione i piccoli bastardi. Allora, facciamo così amalgama richiede doppio sacrificio e fa tre di danno. Potremmo eliminare questi due cerbiati senza doverci preoccupare praticamente di nulla ed è ciò che ho intenzione di fare. Merda! Oh, ho fatto un errore doppio sacrificio lui. Oh, dovrei sacrificare anche l'ape. Oh, vabbè volevo usarla in maniera differente non voglio sacrificare l'alveare per adesso. Ah, l'ape è un degno sacrificio! È vero! Porca la miseria sono stati commessi degli errori. Riporto, ormai la cagata l'ho fatta. Ormai la cagata l'ho fatta. Eh, povero scogliatolino che faccio, che faccio, che faccio? Metto un'ape da questa parte. Facciamo quattro di danno. E va bene così. È andata completamente a farsi benedire ogni mia tattica. Oh, ok. Ora ci attaccheranno e bullizzeranno pesantemente. Caccia la miseriaccia. Però almeno un'ape la otteniamo. si sono tutti stratriggerati. Una tartaruga. Eh, non è poi così malaccio. Possiamo sacrificare l'ape. Scioghere. E mettiamo qui la tartaruga così il primo attacco viene automaticamente parato. E... Oddio, non volevo fare troppi danni eccessivi allo stato attuale. Però mi devo comunque proteggere. Quindi... Segnacala lì. Della serie... Meglio che nulla. A posto. Oddio, stanno arrivando una marea di cerbiatti. È un casino. Boni figlioli, date boni. Io volevo avere una carta rarefaiga. Eh sì, Martin pescatore di tua nonna. Sì, voglio fare danni in eccesso. Se non si fosse capito, voglio fare danni in eccesso. Allora, possiamo eliminare questo cervo easy o eliminiamo tutti questi cervi? Mandandogli contro non una, ma ben due api che sacrifichiamo per il buon vecchio amalgama. Tanto ritorno in mano, sono fatte un po'... Merda, l'ho fatto di nuovo! L'ho fatto di nuovo! Non ci credo mai nella vita! Ma non è possibile. Mi continuo a dimenticare dei degli sacrifici. Aspetta, non la salvo. Non la salvo, non la salvo, perché ormai a prescindere facciamo quel... quel danno extra. No! Che falle! Dai, niente, niente. Ormai, mi sono fregato, mi sono fregato, ragazzi. C'è poco da fare. Otteniamo due dentini. Volevo... Vabbè, sapete bene cosa volevo fare. Ormai le mie tattiche sono abbastanza note e ovvie. Cosa mi metti la tizia lì che non c'è neanche il cacciatore? Mi hanno preso per il culo. Ok, carta con sacrifici. Ok, vediamo un po'... Due, tre... Oh, vediamo se troviamo qualcuno di tre molto... Uh! Il caro buon vecchio alce maschio. Va bene, va bene. L'importante è che non me lo metti nella prima mano e nelle carte iniziali. Io sono bello che fregato, a prescindere io e che cocchio. E allora, tutti al falò, dove ancora aumentiamo l'attacco? Ragazzi, bucio incredibile. Allora, il lupacchiotto è una carta semplice da giocare, ma inizialmente non può fa nulla, piccolo stellino. E voi direte, non, ma la mantide fa già 6 di danno. Siamo a posto, dobbiamo distribuire meglio la nostra potenza d'attacco. Se ci capitasse il lupacchiotto lo posso giocare senza tirare troppi porchi. Eeeh, pertanto sì, aumentiamo il suo attacco così quando digievolve eventualmente il lupo, se ce la fa, ha una potenza ancora nettamente superiore. Eeeh, e niente. Prossima battaglia, cosa fa io? Cosa fa figlioli? C'ho le mani virtualmente legate, eh? Allora, vediamo un po'. Eeeh, adesso arriva la mantide. Perché ovvio che adesso arriva la mantide. E cosa dicevo? Non ve ne mino la prima mano. Guarda, non so neanche neanche neppure. No, no, scusi, ho sbagliato io. Dicevo, non so neanche neppuremire le palle, non vale la pena rompersi le scatole. Vai così. 12 di danno. A posto, a posto, me ne... Via, 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 via. Sono un momento impegnato, c'ho serie da registrare io, che straccocchio. Fuori di qui, fuori di qua. Allora, e vabbè, ma allora dillo che è un complotto internazionale. Allora, potremmo unire due carte e uno potrebbe giustamente domandarsi quali, se sto schifo qui è stupido in effetti. Oppure le pellicce dorate, ma potrei andare dalla signora. Anche perché di sto passo il cacciatore non c'è, Io ve lo dico onestamente, mi devo tenere attaccato al culo con le due pellicce dorate. Qui potremmo clonare qualcuno e... vado a sé che quel qualcuno sarà l'amantide. È un dato di fatto allo stato attuale? Ehm... Sei. E che se la incontro dopo mi girerebbero le palle. Va bene, andiamo di qua. Signora, buongiorno, salve, non ci siamo ancora affrontati. Come va? Tutto bene? Allora, vediamo un po'. Abbiamo due pellicce dorate. Oh, straordinario! Allora, abbiamo Uroboro. Quanto tempo che non ti vedo Uroboro? In questa run ti potrei sacrificare all'infinito, ciccio. Non so se ti rendi conto. Ehm... Bambino 13 diventa virtualmente inutile. E la stessa cosa dica, sì, anche per topo da somma. Però, ragazzi, questo passo al convento, quindi, direi bambino 13 Uroboro! Ne farò un buon uso. Signora, guardi, tra 5 minuti tanto io e lei ci affrontiamo, quindi... Oddio, la mappa è ancora bella grandina. Ok, andiamo dal pittore. Vediamo un po' cosa ricco a farmi dipingere di bello quest'oggi. Mi scuso in anticipo. Ah, mi renderebbe utile, ecco, devo anche dipinga. Non lo so, una bella mantide rara e faiga. Non è che mi farebbe schifo. Voglio dire, è bestia di carta. Signori, si accettano scommesse? Dite che la sminchia. Io dico che la sminchia. Io dico che la sminchia, ma popo una cifra. Difficile. Puoi anche togliergli un attacco, va bene lo stesso. Uno di vita, non mi cambia niente. Cosa hai fatto? L'hai potenziata! Ma perché ogni volta che le mie aspettative si riducono nei tuoi confronti, tu mi fai sti miracoli? Ho fatto del più meglio! Hai fatto bene, hai fatto bene, hai fatto bene! Guarda, ti lovo, ti lovo proprio un sacco. Potremmo anche unirle dai micologi, ma no. Non stiamo a esagerare a questo punto. È una cosa che avrebbe fatto comodo all'inizio. Possiamo unire dei sigilli, se lo ritensimo necessario, ma... Sto abbastanza bene così. Che dite? Altra battaglia? Secondo me la vinciamo easy easy, le musque easy, ve lo dico io. Allora, vediamo un po'. È arrivata l'amantide nuova. Cosa vi dicevo? Sono arrivati tutti incazzati. Aio! Sì, ma buoni dovete stare. Sono tutti super incazzati e qui abbiamo l'avvoltoio tacchino e la talpa. Allora, è che mi sento un po' sporco nell'animo, voglio essere onesto con voi. Vabbè, ragazzi, sentite, il gioco è fatto per essere giocato e... Olè! Siamo onesti, questa run non doveva neanche essere... Arrivare così tanto in là, voglio dire. Quindi... Yeeey! E giudentini, che a sto punto me li tengo per me. Che cacchio devo fare? Non c'è il... Dov'è? Dov'è il cacciatore? Chi l'ha visto? C'è sempre un cacciatore nella terza mappa o l'ho superato io e sono così coglione che non me ne sono accorto. È interamente possibile, eh? Non dico di no. Allora, una nuova carta... Eh... Eh... Una nuova carta decente? Forse avrei dovuto specificare. Oddio, alce maschio che faccio, unisco... Ah no, non li posso più unire, non c'è più il coso. E se dessimo le abilità dell'antilope, come il colpo biforcuto, sì, ok, lo scattante mi fa girare le palle, ma abbiamo fatto di peggio in passato. Dicevo, se dessimo l'abilità dell'antilope a... Toh! All'alce maschio che a prescindere comunque va dove Cocchio gli pare e piace. Cioè, detto tra noi ci converrebbe dare quell'abilità ad amalgama, eh? Se proprio volessimo essere onesti, ma... Ah sì, dai, portatela via. Tanto non c'era un... Ah, c'era i micologi, ve l'ho detta. Oh, ma c'era anche il falò. Ah, vabbè che... Oh ragazzi, potenziare ulteriormente i ragazzi è inutile forse... No, no, forse i micologi sono davvero inutili a sto punto. Però davvero volevo ridurre le probabilità che spawnassero sti due deficienti. A parte che queste tre carte alla fine le abbiamo usate poco e nulla contro ogni aspettativa. Fai inizi col deck delle carte acquatiche e cosa fai? Fai in modo di non utilizzare proprio per nulla le suddette carte. Va bene, dai, andiamo al falò, andiamo al falò, magari può accadere di tutto, figlioli. Ed è accaduto che aumentiamo la vita. Yey, buono, direi molto, ma molto buono. Stite, sto povero lupacchiotto mi dispiacerebbe un sacco se morisse, quindi a sto punto aumentiamo la sua di vita, così in versione lupo ci arriva sicuramente e ha l'attacco potenziato e tutte cose. Mi sembra un'ottima idea. Ora, ritornando a noi, los sigillos, togliamoci dalle balle Santilo perché non mi piace, perché la mantide ce l'ha già, l'attacco biforcuto. O andiamo di amalgama, sì, amalgama è quello più facile da spawnare perché là c'è maschio al triplo, sacrificio richiesto in sangue, quindi è stupido. Andrei di... Ma sì, vai di amalgama, ma dai, che tanto poi è immortale tutte cose e parapapà, olè, meglio che nulla figlioli, meglio che nulla. A posto, chi vuole una boss battle finale? E poi abbiamo finito, non c'è, c'è Rescino dopo, abbiamo, abbiamo completato la run quasi per davvero, non ci credo male in la vita. Oh, giusti giusti che stavo per andare avanti, eh, eccoci qua ritornati al presente. Perfetto, vai di boss battle. Così finalmente posso chiedere al signor cacciatore dove boi e mi è finito. Oh no, hanno i serpenti che si digievolvono. Il cacciatore sedeva curvo a fianco di una delle sue trappole, aprendola lentamente. Era lì che faceva il coglion baro, porca la miseria. Temo che dovrò sguagliare te. Oggi, ciccio, ti ho portato 8000 dentini e tutte cose, ma ti pare il caso? Ma veramente sei una persona orribile. Oh, abbiamo amalgama la strana larva e, oh oh, sì, ma a parte la strana larva, ragazzi, io non posso spawnare nessuno di voi? Oh oh, questo è un bel problemone perché abbiamo le rane bizzarre. No, abbiamo le rane bizzarre che si digievolvono, quindi dopo faranno il doppio di attacco, siamo nella merda più totale. Voglio essere onesto con voi, siamo, siamo morti, siamo tanto, aiutatemi a dire tanto morti. Allora, l'unica, unica cosa che posso fare per adesso è mettere la strana larva, ma vi garantisco che ci morirà fra troci, sofferenze, oh no, tre di danno, me li cucco tutti, porca la miseria. Eh sì, la strana larva ci muore prima di diventare effettivamente l'uomo, no, l'uomo talpa, l'uomo falena, lì come cocchio si chiama. non mi tornava il nome, dannazione. Mantide, uh, e la mantide è quella buona, con 6x2 di attacco, perfetto, perfetto, potremmo, ho una mezza idea. Allora, facciamo così, devo purtroppo uccidere la strana crisalide, non so se tornerà allo stadio iniziale, vediamo un po'. No, rimane una strana crisalide, era una teoria che volevo verificare. La mantide la mettiamo qui, così possiamo far fuori queste due, velocemente, uccidiamo l'aranatoro, purtroppo perderemo la nostra vita, è inevitabile, c'è poco da fare dal punto di vista, olle, aia, questo farà un attimino male, ok, che faccio, pesco qui, vediamo un po', siamo fortunati, oh bambino 13, oh, no no, bambino 13 male, non posso spawnare nessuno adesso, no, eviterò per fare due di danno, no, aspetta, aspetta, la posso salvare, la posso salvare, la posso salvare, non ci sono povere, lo faccio buonissimo, ma ne va a fare appena, al senso, quasi morivo male, ma anche, anche la vipera, va a rompere le palle, oh, per fortuna che avevamo quell'oggetto gente, allora, facciamo una bella cosa, bambino 13, tu mi resti lì in un angolino, non attaccare la carta davanti a te, mi raccomando, allora, la possiamo vincere, come dicevo, easy, easy, però non posso spawnare ancora sti ragazzuoli, perché il bambino mi dà un singolo, una singola goccia di sangue, quindi, facciamo, che per adesso ti metto qui, eccolo lì che va a rompere le palle, mettiamo comunque la strana crisalide, ma più che altro per evitare che il bambino 13, mi ci schiatti, ok, si, la strana crisalide ci muore, è un dato di fatto, perfetto, tanto torna in mano, non cambia nulla, ok, mi hanno dato anche una pelle di lupo, oh, è una buona notizia, così facendo, praticamente, continuiamo ad ottenere le famose pelle di lupo, e, ovviamente, mettiamo da parte anche degli ossicini, allora, scarafaggio, sciaghera, allora, faccio una cosa un po' impopolare, 12 di danno, e vi sarò tutti felici e contenti, però, oh mio Dio, abbiamo veramente delle carte di M, dannazione, ok, intanto vediamo di fare questo attacco, no, bambino 13, non potevi farti gli stracavolacci tuoi, eh, niente, sono rimasto un pochettino fregato, ok, dobbiamo sperare, che con la signora vada meglio, oh mio Dio, ciccio, va che me la sono legata al dito, però, eh, non so perché non sei sponato, facciamo fuori, ma di che signora, suo cugino di secondo grado, mi ha un po' truffato, allora, sì, sì, la possiamo vincere facilmente, allora, mi ha dato una, due, tre pelli di lupo, vada a sé che dicevo, basta che togliamo questo e questo, e il gioco è virtualmente fatto, a prescindere, la mano è mia, chi altro, chi altro mi prendo, se ti prendi il coso qui, e vado, molto bene, ok, mi dai anche la possibilità di pescare, ma che gentile, il cervo letale, sì, sono tutte carte, come detto, non possiamo giocarci, peccato perché avere voluto fare un po' di danno extra, proprio per fargliela pagare male male, ma sono tutte carte da doppio sacrificio, e, guarda, metto giusto lo scarafaggio che passava di là, top, e basta, e per il resto, niente, no, posso fare un po' di danni extra, così per simpatia, in teoria, se facciamo un po' inchiette, spadoinchete, perfetto, e, lo mettiamo direttamente qua vicino al campanello, me o niente, c'ho fioi, posso rimettere lo scarafaggio, in effetti sì, abbiamo ancora abbastanza ossa, e, no, la sana crisalide non la spawna a suo punto, oh ragazzi, meglio che nulla, si fa comunque 16, 17 di danno, e giù dentini che non mi serviranno niente, bello eh, grazie, proprio io, con voi non ci parlo più, ammetto, temevo di non superare la boss battle per un secondo, non mi, non mi sono arrivate carte decenti purtroppo, signor lescino, mi dà, tipo, non lo so, un dio delle mantili, qualcosa di utile, vediamo un po', lo schifo, lo schifo di proporzioni bibliche, mi prendo un uomo talpa, che ti parla il culo, in caso di necessità, oppure, mi prendo l'uomo talpa, mi prendo l'uomo talpa, dai, ok, magari una carta decente la prossima volta, se non chiedo più di tanto, forza lescino, dai, vediamo di affrontarci, e tanti saluti, e io dalla tizia ci sarei voluto andare, visto che abbiamo 72 denti ragazzi, ho 72 maledettissimi denti da parte, e non so cosa farmene, ditemi voi, se non è il super mega complotto internazionale, lascia sta che è meglio, allora, andrei ad unire delle carte, detto tra noi, potremmo dare il sigilo del bambino 13, temporaneamente all'uomo talpa, perché comunque c'ha 6 di vita, ok, in questo caso il bambino 13 può anche attaccare, ma, meglio non correre rischi inutili, sì, andiamo di qua, che ho già le carte girate, per non dire di peggio, bambaino, shagher, perfetto, c'è qualcun altro, casomai, no, non avrebbe senso, e voilà, uomo talpa potenziato, credo sia la prima volta che mi porto via l'uomo talpa, o mi sbaglio io, non mi ricordavo neanche che gli si accendesse la pala, la fine incombe su di noi, su di me soprattutto, perché in questa situazione, stiamo scherzando, che insetti hai, gli insetti che perdono la coda, sì, un'altra per sicurezza, le sci, ho fatto un'intera run con una singola candela, e tu non puoi fare la boss battle con due, dobbiamo rimuovere i loro sigili, se saranno troppo fastidiosi, allo, oh, ti ringrazio, ti ringrazio, ma c'è l'uomo talpa che era un po' le palle, e poi si è giocato, amalgama, ah, martin pescatore, praticamente inutile, allo stato attuale, allora, facciamo attenzione, perché poi lui indosserà le maschere, di solito la prima, è quella del prospettore, come ben sapete, allora, devo, devo, e non posso fare molto, però adesso me la, me la lasci qua, verrà uccisa da amalgama, ma, anzi, no, 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 come ne ho detto, come ne ho detto, il primo colpo è mazzacoso, e poi, completiamo il primo round, ok, se le cose rimangono così, possiamo ancora ancora farcela, lescino, ti vedo un po' con le palle, gira, uh, doppio attacco frontale, ti piace giocare sporco, eh, sporcaccione, eh, niente, la vinciamo ancora, grazie alla matide, però, qua la luna rischia di, di fregarci, effettivamente, minchia, magari facciamo la battaglia finale, questa luna sta calando, no, sono i miei porchi che stanno salendo, ciccio, lascia stare che è meglio, allora, possiamo resistere a un paio di attacchi della luna e basta, userai attaccare la luna? E che altro posso fare, scusa, eh, lo scarafaggio non lo posso mettere, eh, il martin pescatore fa, fa uno di danno, fa ridare i polli, onestamente, allo stato attuale mi conviene temporeggiare, perfetto, e continuare ad attaccare a 14 al colpo, esce qualcuno di decente, uomo talpa, alleluia, però, sì, non è che mi cambia ancora più, tanto posso fare una roba del genere, aspetta, è anche quello che abbiamo appena digievoluto, con la pala più verde che mai, e metto un martin pescatore per fare uno di danno extra, aspe, però così facendo possiamo, uno, due, e mettere la tartaruga che si protegge dal primo danno, e poi può contraattaccare in continuazione, sì, perfetto, perfetto, la mattina è purtroppo cischiata, piccola, adorabile stellina, la tartaruga era protetta, wow, amalgama con attacco biforcuto, che piacere vederti, allora, facciamo una cosa del genere, dobbiamo sacrificare l'uomo talpa, se no amalgama non lo possiamo mettere, perfetto, mettiamo comunque l'amantide religiosa, e lo scarafaggio giusto per abbondare, ok, non ci servivano tutti questi danni, ma giusto perché lo posso fare, Nishinot è andata male anche sta run, eh, la cosa strana è che è andata bene a me sta run, fatta figlioli, fatta completata con la settima run della Casey, sono 12 in totale, queste sfide sono state bastarde, porca la miseria, allora, annotazione numero 7, alcune sere sviluppo la mod, altre scavo, scavo a fondo in questo file di log, e spesso trovo cose che non avrei voluto scoprire, questo non è un semplice dischietto, che Kaminsky usava per sfogare le sue frustrazioni, dopo il lavoro, questa è roba seria, di tanto in tanto ricevo delle informazioni dall'intagliatrice, la situazione è agghiacciante, potrebbero essere sciocchezze, oppure c'è davvero un congegno apocalittico sotto Berlino, armato con un codice nascosto in un mazzo di carte, e il famoso codice Carnoffel mi pare che si chiamasse, Cambiando argomento, ho appena introdotto la sfida Totem dei Boss, grazie, è stata veramente una bella idea, signori, abbiamo due nuove car, oh no, non mi dire che è il mazzo dei, come si chiama il mazzo delle carte, quelle delle ossa, potrebbe essere questo, un nuovo starter deck, allora la prima carta è il Procione, mentre Procione è sul tavolo, anche le creature avversarie donano ossa quando muoiono, donano, ah ok, ho capito adesso, interessante, in effetti, carta facile da spawnare, 1-1, durerà mezzo secondo, non l'ho mai, credo, mai mai utilizzata, poi abbiamo Avvoltoio, questo non c'era, in effetti, Avvoltoio ha una potenza, pari alla metà delle ossa del proprietario, inoltre, Avvoltoio colpisce l'avversario direttamente, anche se ha una creatura di fronte, perché è una carta volante, sì, ma porca la miseria, quindi vuol dire che io non devo usare le ossa, altrimenti, vabbè, con quattro ossa praticamente, lui fa due d'attacco, e richiede tre sacrifici di sangue, mi pare un po' una minchiata, eh, per dover di cronaca, ta' guarda, mazzo iniziale sblocchiato, quello delle ossa, ci danno il, cucciolo del, um, metalupo, lì come cochi si chiama, il coyote, che si spona con quattro ossa, e giustamente, il procione, ah ok, non ci danno la carta dell'avvoltoio, a prescindere, questa, questa challenge, giurerei di non averla fatta ai tempi d'oro, eh, ma potrei dire una minchiata, run numero 8, è meglio che comincio a correre io, altro che run, allora, figlioli, eh, cosa facciamo, perché più andiamo avanti, più aumenta il livello di sfida, per inciso, io non sono costretto a scegliere nuovi mazzi, eh, posso anche scegliere quelli vecchi, e sfruttarli alla grande, solo che mi piace complicarmela, prima o poi, uno di questi giorni la perdo una run, allora, dobbiamo arrivare a 80, 80 punti sfida, allora, subito, unica possibilità, più difficile, e, totem dei boss, però arriviamo solo, a 80, e, porca la miseria, facciamo, e a 80 ci arriviamo, facciamo anche la bilancia sbilanciata, prima era sbilanciata la bilancia, c'ho un vuoto di memoria, perché registrando i video in più, in più sessioni, è un po' un casino, quindi vuol dire che stavolta abbiamo l'amo, mi sembra un po' una cavolata l'amo, per dover di cronaca, ma vabbè, è gratis, cosa vuoi di più della vita, una volta tanto gli oggetti rimangono lì, vabbè, ragazzi, ottava run, e vai, cosa potrebbe mai andare storto, quando hai un procione, un lupetto feroce, e il coyote, fin dall'inizio, che non puoi utilizzare, perché richiede quattro ossa, quindi, devi usare il lupetto feroce, che però richiede, come facciamo, cioè, ti aspetti che il procione, vada a raccogliere le ossa, quando uccide un avversario, e così facendo, forse puoi spawnare il coyote, se sei fortunato, non è, non è un bel deck, non è veramente un bel deck, figlioli, beh, una cosa certa, gente, dipenderà tutto dalle carte, che scegliamo, in questo momento, ne possiamo prendere solo due, come ben sapete, ammetto, l'amantide, ci farebbe comodo, in questa specifica situazione, però la larva di tarma, ragazzi, ci ha salvato il culo, eh, ci ha salvato un sacco il culo, anche se qui abbiamo già due carte, lupo, sto pensando già ai totem, da fare in futuro, e la capra nera, ci permetterebbe di mettere il lupetto, che poi diventa, un lupo feroce, 2, 5, e che all'inizio, è veramente tanto debole, sto povero Cristo, beh, si dj evolveva subito, al primo turno, vero, non, non dico minchiate, cazza bubolo, se prendessimo questo, fin dall'inizio, però la larva di tarma, è la tattica finale, non so se, allora, questa la prendo, ed è garantito, non so se prendere la capra nera, o puntare un po' sull'attacco della mantide, perché, oddio mio, oddio mio, c'ho troppi dubbi, in questo preciso momento, ok, la prendiamo dopo, la prendiamo dopo la capra nera, a sto punto andiamo full, mantide, e vi sono tutti felici e contenti, sono comunque due di danno, sono ottime i miei ringraziamenti, arrivederci signora, allora, come potete notare, sì, abbiamo l'amo, lo scogliattolo, e ovviamente, e pinze, ora, dobbiamo decidere come gestircela, io andrei in questa direzione, perché di solito, il prospettore, ci dà delle ottime carte, tuttavia, abbiamo il falo iniziale, io potenzio lei, è abbastanza ovvio, che io vado a potenziare lei, buono, andiamo a incontrare i nostri amichetti, che purtroppo, non posso avvelenare, ragazzuoli, buongiorno, come va? Mi permetterebbero di aumentare l'attacco, con la larva di tarma, è una bella comodità, che vi ricordo, non posso spawnare dall'inizio, mi servono due ossa, ok, quindi c'è anche questo da tenere, in considerazione, allora, io, io me la rischio, intanto, uno, sicuro, e ora dobbiamo decidere, se loro ci stanno per fregare, la risposta è, oddio, la risposta è sì, ci fregaranno tantissimo, vero che mi state per fregare, cosa facciamo? Ok, me la rischio, me la rischio, me la rischio, oh, che buccio di culo assurdo, oh, che bucerrimo incredibile, quantità in mani di bucio in questo momento, ok, 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 forse abbiamo una possibilità, se riusciamo ad utilizzare la larva di tarma con l'amantide, non è niente male, avremo un doppio attacco triplo fin dall'inizio, e ti svolta la giornata, o digi evolviamo il lupetto feroce, non lo so nemmeno io, allora, dobbiamo sopravvivere alla prima battaglia, come potete vedere, qui c'è un altro falò in caso di necessità, dipende tutto anche dalla carta che riusciamo a trovare lì sotto, intanto sopravviviamo, Lescino, come va? Sei pronto per una nuova run? Io no, io decisamente pop una cifra, no, allora abbiamo un ceppo, una lucertola che se arriva qua si blocca peraltro, quindi, il problema è che il mio povero procione, può essere shottato, perché c'ha uno di vita, piccolo stellino, sì, da solo è una carta virtualmente inutile, questo è un sigillo, casomai, che andrebbe assegnato, a un'altra carta, che è in grado di fare una quantità immane spropositata di danni, tipo, non lo so, il dio delle mantidi, per intenderci e via dicendo, però, sì, io non posso spawnare nessun altro, possiamo fare una cosa del genere, allora, per adesso mi metti il procione direttamente qua, in attesa di ottenere delle carte più decenti, quindi facciamo uno di danno noi, fanno uno, dai, sei un pezzente, dannazione, ok, vediamo se c'è qualcuno di più utile qua sotto, la mantide, ora, la trucidiamo adesso, o aspettiamo dopo, perché possiamo resistere, ancora un attimino per dover di cronaca, però diciamo che non me la sento io di rischiare più di tanto, facciamo una cosa del genere, scogliatolina, c'è bisogno di te, piccolo stellino, io ho già paura di perdere all'inizio, così facciamo direttamente due di danno, anche se il procione ci muore, uh, la larva di tarma può già fare due di danno, allora, te teniamola da parte, per adesso, perché dipende tutto da chi troviamo qua sotto, intanto vediamo di fare l'attacco nostro, perfetto, purtroppo la rana toro, bastarda, ci bullizza male, uh, anghingo, chi c'è qua sotto di bello, il lupetto feroce, piccolo stellino, mi ero completamente dimenticato, di te, allora, possiamo far fuori la lucertola, e danneggiare intanto la rana toro, ottimo, ahia, ovviamente veniamo leggermente bullizzati, riprendo le carte, no, niente era muscelli d'olivo, non cominciare a rompere le palle, le esci che non è giornata, allora, mettimi per adesso, aspetta, vediamo di non fare minchiate, lo scoiattolo qui, la larva di tarma qua, spawniamo sto cocchio di lupetto feroce, potenziato con 3-3, perfetto, così possiamo direttamente far fuori quella cocchio di rana toro, vai, perfetto, e facciamo un paio di attacchi extra, ok, lupetto feroce è diventato un lupo feroce, 4-7, e abbiamo potenziato l'attacco o no con tutto ciò? Mi viene un piccolo dubbio, se devo essere onesto con voi figlioli, allora, stiamo per fare 4 più 1, 5 di danno, con il coyote possiamo portarlo a 7, meglio che nulla, è vero, lupo feroce attacco due volte, che pirla, quindi abbiamo un po' di dentini extra, sperando che il cacciatore si presenti al lavoro, eh, se non chiedo troppo allora, oddio mio, eh, sì, dobbiamo per forza andare dal prospetore, e sperare di trovare la carta dorata, ah, che ne dici, tentare la fortuna, scegli una roccia, ok, mostrami dove colpire, la numero 1, sbadoinche te, una pelliccia dorata, siamo stati anche fortunati, buono, la possiamo usare per proteggerci temporaneamente, oro, eh sì, oro mio, ciccio, ci è rimasto malissimo, non mi risponde nemmeno, di solito un qualcosa te lo dice, un altro falò, porca la miseria, no, 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 va bene, posso continuare a portare avanti la, la mia tattica, magari una potenziata alla mantide, gliela si può anche dare, eh, non, non dico di no, o al lupetto feroce, o al procione, bisogna anche aumentargli la vita, piccolo stellino, eh, però sì, larva di tarma, sarebbe la, la, la tattica ideale per far tutto, e allora, tutti al falò, figlioli, la te, non vedo niente, fare l'attacco di uno, ah, anghingo, sì, oh, oddio, lonino, è che non la puoi spawnare all'inizio, quindi devi anche puntare, su altre carte, che ti possono difendere egregiamente, e la mantide è l'unica che può fare, un lavoro abbastanza pulito, però mi rode, dai, potremmo mettere la larva di tarma, portare l'attacco a più quattro, vuol dire completamente svoltare la giornata, ok, lo facciamo al prossimo falò, cazomai lo facciamo al prossimo falò, ma intanto almeno mi, mi paro il culo onestamente, quindi, mantide uno, scelgo te, ok, già avere quattro di attacco non è niente male, però non posso essere sculato due volte, figlioli, è un dato di fatto, che faccio, che faccio, e se il telone fosse sculato due volte, il telone è stato sculato due volte, non ci credo mai, i sopravvissuti avevano ragione riguardo alle fiamme, hanno potenziato il valore di potenza della creatura, sì, sì, me ne vado, ciao ragazzi, non ricapiterà mai più, in effetti c'è un falò qua davanti, abbiamo completamente saltato la zona di totem, che voglio dire, ci hanno salvato il culo, eh, alla run precedente, mi servono carte più potenti, ste qua fanno veramente troppo schifo, ok, intanto sopravviviamo a un'ulteriore battaglia con l'escino, che per fortuna non si sta giocando i totem, non prima della boss battle almeno, allora, uh, che brutte carte figlioli, ok, possiamo proteggerci, me la presta questa, chiedo per un amico, oh, il martin pescatore è intoccabile allo stato attuale, quindi, ah, il procione potrebbe riuscire a far qualcosa in effetti, ah no, non lo può attaccare direttamente, giusto, mi sono completamente dimenticato, quindi, dobbiamo temporeggiare, in attesa che arrivino carte decenti, siamo, un attimino in stallo, in questo preciso istante, shogaro, ah, lui mi attacca l'abete, è vero, è un grande, è grosso abete, lupetto feroce, rimani lì per adesso, ok, se continua così però noi perdiamo, eh, porca la miseria, il mio abete resisterà ancora a un ulteriore attacco, larva di tarma, shogara, devo punare quanto prima col cocchio di lupetto feroce, che se si digevolve è fatta, eccolo lì, sappiamo tutti che sarebbe accaduto, ok, ho bisogno quindi dello, dello scogliattolo, no, no, aspetta, posso mettere già la larva di tarma, uh, oh, bene, così non sono costretto a far fuori il procione, è veramente un'ottima notizia, pertanto vai di, eh, larva di tarma, tac, tac, ciao chiaro, e, io lo metto qua davanti, perché tanto a prescindere non me lo possono attaccare, e, in passato quando ho attaccato io l'alveare, le carte api sono arrivate in mano a me, che è una cosa che non ho mai capito il motivo, ma, vabbè, funziona così, chi cocchio sono io per lamentarmi, perfetto, ok, dice, volviti ciccio, e, para papà, quattro di attacco doppio, e che io l'amantide la vorrei mettere, aspetta, no, che sfiga assurda, vabbè, ma l'unino lo puoi fare comunque, razza di imbecille, fai fuori il procione, metti l'amantide qua, tanto non ti possono bloccare le carte, quindi, wow, facciamo praticamente, quanto abbiamo fatto, 14 di danno, oh, staranno invece i dentini proprio a frotte, una roba assurda, non è male, siamo già a 18 dentini, e, vi ricordo che abbiamo già una pelliccia dorata, lecino, stanno a cadere fuori i dentini, un po' di ordine, ok, dobbiamo scegliere una carta in base alla tipologia, è più facile a dirsi che a farsi, io punterei ancora sugli insetti, se riusciamo a fare un altro totem di insetti, e il terno all'otto, perché il coyote non lo potremmo così mai utilizzare, perché se continuo a spawnare la larva di tarma, non potremmo farmare abbastanza ossa, a meno che non trovo un modo tattico per ottenere ossa in continuo, non lo so, se trovassimo uro boro, puoi fare i mega super sacrifici, ad ogni modo Lonino, non giriamoci attorno, se trovassimo una capra nera sarebbe il to, minchia gioco, ti adoro, minchia gioco, ti adoro, porta la via alla piccola adorabile stellina, e il gioco è fatto, adesso posso spawnare più facilmente, anche carte tipo il lupetto feroce, mi posso permettere di portarle via, ancora sto cocchio di falò, o possiamo andare avanti in questo modo, tutti al falò di nuovo, possiamo aumentare la vita di qualche carta, eh, la vita di chi, dico io la vita di chi, devo aumentare la vita del procione, ma qua non la finiamo più, o la vita del lupetto, che se no me lo sciottano alla velocità della luce, ci sono tanti problemi, o a prescindere andiamo ancora di larva di tarma, con 6 di vita, qualunque carta, e a posto da qua fino alla fine dei temi, non la uccidono, se non con il sigillo della, quello letale, dai insomma avete capito, comunque sul procione, non ci voglio fare troppo affidamento, darei come detto il suo sigillo a qualcun altro, così posso dormire sonni più tranquilli, potremmo aumentare la vita della capra, qualora la fondessimo col gatto, così può durare più a lungo, per adesso punterei sul lupetto, anche già 3 di vita, poi si dicevolve, sarebbe già più che sufficiente, no ragazzi, non me la rischio, sarebbe veramente stupido da parte mia, oddio sarei tentato, oddio sarei tentato, no 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 no, ripiglietti la carta, ripiglietti la carta, ripiglietti la carta, tre volte di seguito ragazzi, è impossibile, se volessimo ci sono altri falò anche qui, potremmo anche andare a cominciare a fare i totem, allora intanto come al solito, cerchiamo di sopravvivere alla prossima battaglia, le shino le shino, vediamo un po' che arriva di bello, abbiamo il lupetto, il procione, le carte di M, allora abbiamo una lucertola che sta arrivando a romperci i maronzoli, per adesso mettimi lo scoiattolo e il procione qua di lato, no, non lo metto davanti alla lucertola, perché paradossalmente una lucertola può far fuori un procione, in questo universo funziona così, non chiedetemi perché, ma lo accetto molto passivamente, oh oh, vipera in avvicinamento rapido, vediamo un po' se spunta qualcosa di decente, a capra nera, buono, 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 per adesso passiamo il turno, purtroppo subiremo due di danno, è inevitabile, tutto calcolato figlioli, tutto calcolato, ora metterei il lupetto davanti alla vipera, così la shottiamo, instant, ecco qui ovviamente serve la capra nera, è inevitabile, ho mantenuto il procione, che cosa buona, è tanto giusta, perfetto, abbiamo anche abbastanza ossa, se saltassero fuori le carte più interessanti, olè, ehi, giù le mani dalle ossa della mia creatura, perché? ah, giusto, giusto perché c'è il procione sul tavolo, hai ragione, hai ragione, casino, ok, si è digi evoluto in lupo feroce, con due di attacco, e sette di vita, però sei un pezzente, però dillo che sei un pezzente, possiamo mettere un coyote, per far fuori la sua lucertola, da fare meglio che nulla, senti, c'ho le ossa, una volta tanto, quanto stiamo per fare? Non ci basta, purtroppo, oh bastarda, oh bastarda, aspetta, 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 comunque, eh non è male, non è male, purtroppo, lupetto feroce, anzi, lupo feroce addio, mi avevi servito fedelmente, mi arrendo, no, basta con sta storia del mi arrendo, le sci, hai rotto le palle, te e il mi arrendo, mettilo qui, così intanto facciamo fuori anche la vipera, ottimo, e, eh, eh, mi servirebbe giusto un cicinino di attacco in più, che non sarebbe male, oh, giusto, giusto, vai così, mantide con 5 di attacco, oh ragazzi, nonostante tutto, la partita è finita abbastanza bene, con ancora una volta altri dentini extra, staran, mi sta coccolando anche troppo, siamo già a 29 denti, allora, che facciamo, che facciamo, andiamo qui e poi di qua, ci c'è chi e ci c'è là, bel dubbio, perché virtualmente è la stessa cosa, ma potrebbe cambiare praticamente tutto, ok, dipenderà praticamente da quale carta troviamo, qua sotto, vai, allora, cosa scegliamo? La 1, la 2, o la 3, uuuuh, alveare, ragazzi, è una tattica che ha funzionato, e questo gioco si basa sul replicare tattiche che funzionano, non è che ogni volta che voi giocate a un videogioco, cambiate le tattiche, di solito le riciclate, perché l'obiettivo finale è la vittoria, allora, vi ricordo che abbiamo già la capra nera, che non è una cosa da poco, se riusciamo anche a replicare il sigillo, e lì è la vittoria assicurata, ok, facciamo così, dai, se ricapita lo scelgo, altrimenti, amen, ci abbiamo provato, allora, è destino, due volte la stessa carta non capita mai, è destino, l'ha voluto gioco, io sono innocente, ora, andiamo come dicevo, uuuuh, il pescatore è già qua, dicevo, andiamo a fare un totem, andiamo al falò e poi a fare un totem, andiamo a fare in quel posto, ci sono tante possibilità nella vita, nessuna di queste, a prescindere è buona, eeeh, io sceglierei ancora gli insetti, perché abbiamo tre carte insetto, e l'alveare genera insetti, ha funzionato gente, quindi, tutti di qua, presto, signora, buongiorno, che totem belli c'ha lei, intanto la testa degli insetti, quindi, a prescindere, abbiamo già metà dei pezzi, che non è niente male, certo, mi avresti dato anche il culo, l'ho detto così, sono male, signora, non volevo, la vecchietta poverina, lasciamo stare, senti, andiamo dai miei amici al falò, che è meglio, possiamo aumentare la vita, e ovviamente, in questo caso, io andrò ad aumentare la vita dell'alveare, così ci danno le api, non potrò magari renderlo immortale, come prima, che è stata una furbata assurda, però, a più quattro, io ce lo porto, che è già qualcosa, signori, ma se io ve lo lasciassi un pochettino più in caldo, un bel alveare caldo, come lo faceva la nonna, la butto la, sono troppo tentato, sono troppo tentato, lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio, lo faccio, oh, non lo faccio più, oh mio Dio, 3 su 4, e il quarto falò, credo sia il quarto falò, ok, scusate, scusate, grazie di avermi fatto scaldare l'alveare, ma do figlioli sta run, è la run più sculata, mio Dio, siamo ancora messi, non perfettamente bene, oh, abbiamo la larva di tarma, che comunque può attaccare, nella peggiore dell'ipotesi, però, con l'alveare che mi pare il culo, forse il pescatore non ce la mette in quel posto, direttamente, salve, sono il telone che odiate di più, ovvero quello che sta editando il video, e che vi dice che purtroppo per questo episodio ci possiamo fermare qua, signori, siamo arrivati a 40 minuti, so che questi episodi vi stanno piacendo un sacco, io mi sto divertendo, però devo concludere pure io, non vogliatemi, nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, o vi faccio rubare le ossa dai procioni, e noi ci vedremo in un prossimo video, ciao,